Beh sì, tra festival del cinema. Prego Franco, vuoi fare la tua domanda al professore? La bambina è il monello. Spesso si faceva per avere il comodo. E se quando lo faceva per avere tante le tue intenzioni? Tutto bene. Il monello è una bella mia madre, che è una grande rompicoglioni. Ho perso 50 lire in un prato e sto ancora cercando. Naturalmente dopo le palle di 50 lire forse erano molte negli anni 50. Io avevo perso e ancora quando ho perso il caso di questo prato ci saranno ancora quelle 50 lire. Ci sono altre domande? Sì, ci sono delle domande. Una donna molto forte di carattere. D'altra parte, se c'è da mai una madre forte non ti diverti a farla incazzare. C'è da mai una ragione. Bisogna che sia un tuo madre come io. E allora, più bello. No, no, no. Non mi diverte. Non sarebbe meglio che ti ponessi qualche... La puoi rifiuti. Un'altra tempo forte. Giusto un'altra domanda. Possiamo fare un'altra domanda? La prego. Quale fiamma ti piaceva da piccolo? Non ho capito. Quale fiamma ti piaceva da piccolo? Quale fiamma ti piaceva da piccolo? Ah, ok. Non in particolare. Non sono stato mai amici di fiamma. Però, insomma, la fiamma che mi piace di più è quella del bambino che vede l'imperatore muro di Anderson, che lo vede nudo e gli altri dicono che sei vestito. Quella è un racconto talmente formidabile rispetto all'ipocrisia, alle bugie che si raccontano. Invece il bambino non ci si è bugia. Però anche i bambini si fanno meglio. C'è un bambino. Tu le dici le bugie. Solo che sempre non lo viene. E rubiamo un'ultima professora. E' la prima volta che ho fatto un bambino in vita mia. Oh! E' la mente di mani. Se dopo... No, anzi, sono affascinato. Sono affascinato. Sono affascinato. C'era sempre che voglio leggere io. L'esperienza. Ho insegnato a una stanza maggiore. Se poi vedevo a fine non li ho mai visti. Le fa piacere comunicare con loro? Grazie. Non ho mai superato 18 anni. Prego, Rossella. Sono emozionati. Li perdono. Anch'io. Quattro giorni fa ci hai lasciato Shibu Araki. Volevo sapere cosa pensi della sua arte. Se lei l'ha incontrato oppure se hai visto qualche suo fumetto tipo Goldrake, Lady Oscar e Gianluigi. Mi sembra sempre sembrato una forma di grande creatività anche la mia fumetto. Quindi... Però... Ne sai sicuramente tutto di me, insomma. Quindi io... Sono un po' dispiace un problema che ci sia. Troveremo un altro. Un lo sollevo. A te come sembrava? Mi piace? Sì. Mi piace? Mi piace? Eh vabbè. Diciamo che è immortale anche lui, grazie. Sì. Al gruppo dei piccoli. Grazie. Solo un ultimo pensiero da parte di un nostro... È il più grande, è lo zio dei piccoli grifoni. Ha un pensiero per lei, realizzato da lui. Davide. 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 Vi hai fatto la forza per rostrannare il libro. Ma sarà dentro. Grazie. Ci speriamo tutti, ci speriamo tutti su un luogo, perché luogo sono il nostro futuro. Ho anche il presente dal volto, grazie.